Buonasera dal telegiornale di TSD. Una famiglia per crescere è il titolo dell'incontro di informazione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare organizzato dal coordinamento Affidar dall'ufficio per la pastorale familiare della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro e dal comune di Arezzo in programma venerdì 21 febbraio alle 21 presso il seminario di Arezzo in piazza di Murello. Il programma prevede dopo i saluti dell'assessore alle politiche sociali del comune di Arezzo Lucia Tanti una riflessione sul tema intitolato che cosa è l'affidamento familiare che prevedono gli interventi per il centro affidi del comune di Arezzo della psicologa Maria Cristina Severi e dell'assistente sociale Maurizio Bigi insieme al referente del coordinamento Affidar Giuliana Aquilanti. Concludono l'incontro alcune testimonianze di famiglie affidatari e nel corso dell'iniziativa verrà distribuito ai partecipanti materiale informativo per approfondire il tema al centro della serata. E da Arezzo ci spostiamo a Cortona perché è tutto pronto per celebrare Santa Margherita patrona del comune appunto di Cortona. Vediamo il servizio. Margherita di neve o di fiori vuole essere vestita. Mai come quest'anno il vecchio adagio suggella l'imminente festa del 22 febbraio, giorno della morte della Santa Patrona Cortonese avvenuto nel 1297 all'età di 50 anni. Margherita nacque a Laviano nei pressi di Castiglion del Lago nel 1247. Rimasta fin da piccola orfana di madre fu molto amata dal padre ma non dalla matrigna. Margherita sensibile e bellissima contraccambiò all'offerta d'amore di Arsenio, un giovane signore con il quale andò a convivere nella lussuosa dimora di Montepulciano. Nacque anche un figlio ma poco dopo il giovane amante fu ucciso. Così cacciata dai familiari di Arsenio non poteva tornare nemmeno nella casa paterna a causa dell'opposizione della matrigna. Si diresse allora verso Cortona, entrò in città da Porta Berarda nel 1272 e si imbatte in due frati francescani che le trovarono accoglienza e aiuto nella casa di marinaria e raniera Moscari. La sua vita cambiò totalmente, si dedicò completamente ai poveri, ai malati e ai peccatori. Entrò quindi nel terzo ordine francescano e si distinse anche nell'assistenza ai bisognosi fondando l'ospedale che oggi trasferito alla fratta di Cortona porta ancora il suo nome. La sua vita di preghiera e penitenza fu confortata da estasi, visioni e innumerevoli miracoli, come racconta il suo confessore fra giunta Bevegnati. Nella leggenda recentemente tradotta è commentata in un poderoso libro di padre Federico Cornacchini, dal titolo Santa Margherita da Cortona, vita, colloqui, miracoli. La canonizzazione della Santa venne fatta da Benedetto XIII il 16 maggio del 1728, ma la voce popolare cortonese la dichiarò subito Santa. Come ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Val di Chiana e oltre salgono il colle per partecipare alle celebrazioni che iniziano venerdì 21 febbraio alle 17.30, quando le autorità civili consegnano nelle mani del guardiano del santuario, padre Livio Crisci, le chiavi dell'urna che conserva il corpo incorrotto della Santa. Di seguito gli araldi procedono all'antico rito dell'apertura che dà il via ufficiale alle celebrazioni. Il giorno seguente, sabato 22 e quello della festa, fin dalle 7 di mattina vengono celebrate delle messe. Alle 11 quella solenne è presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Da qualche anno, soprattutto nel giorno della festa, prestano servizio presso il santuario gli araldi di Santa Margherita, associazione fondata nel 1965 per volere di padre Francesco Poletti. All'inizio della sua storia l'associazione comprendeva un bel gruppo di bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, con lo scopo di favorire la devozione e la conoscenza della vita, della spiritualità e dell'opera sociale della Santa e renderne più solenne il culto. Per molti decenni il numero di bambini aveva retto, poi, nei primi anni del 2000, cominciò a calare fino a esaurirsi. Così nel 2011 un gruppo dei primi araldi, ormai diventati adulti, decisero di riprendere la bella tradizione, tornando a riunirsi presso il santuario per pregare, svolgere servizio durante le feste margheritiane e portare e onorare il nome della Santa Patrona ovunque ce ne fosse occasione. Guglielmo Borri, 57 anni, avvocato storico esponente del Movimento Cristiano Lavoratori di Arezzo, ex consigliere comunale di centrodestra e il nuovo amministratore unico di Arezzo Multiservizi. Lo ha nominato con decreto il sindaco Alessandro Ghinelli. Borri, tra i consulenti di riferimento della Multiservizi, subentra adesso alla guida di questa azienda pubblica. Il nostro focus di oggi è dedicato al terzo appuntamento del ciclo di conferenze sui vescovi della Diocesi di Arezzo, organizzato dalla Società Storica Retina in collaborazione con la Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, insieme anche al Comune. Relatore dell'incontro è il professor Franco Cristelli, vicepresidente della Società Storica che ripercorre la figura del vescovo Bernardetto Minervetti. Dunque buona visione con il focus di questa sera, arrivederci. Prosegue il ciclo di conferenze sui vescovi della Diocesi di Arezzo, relatore di oggi il professor Franco Cristelli. Qual è la figura di vescovo che verrà affrontata oggi? Oggi Bernardetto Minervetti, che fu vescovo dal 1537 al 1574, quindi attraversa un periodo storico molto importante perché praticamente è contemporaneo di Cosimo de' Medici e di Giorgio Vasari, con i quali era in stretto contatto e quindi collaborava con loro e loro collaboravano con lui. Quindi come periodo storico è molto importante. Poi anche dal punto di vista religioso sono gli anni del concilio di Trento e della chiusura del concilio di Trento e i primi anni post conciliari, quindi è un periodo molto denso. Sul territorio della Diocesi di Arezzo per che cosa in particolare viene ricordato questo vescovo? Il vescovo è ricordato perché cominciò ad applicare alcune direttive del concilio di Trento. Poi dopo l'applicazione delle direttive durò naturalmente, non è una cosa di un giorno. Cominciò ad applicare alcune direttive del concilio di Trento, cominciò a applicarle anche con se stesso in un certo qual modo, perché lui i primi anni era praticamente all'Arezzo ci venne pochissimo, perché era sempre impegnato in ambascerie per conto di Cosimo de' Medici. Invece dalla chiusura del concilio di Trento, poi fu più presente all'Arezzo, fece cinque sinodi. Cominciò in questo impegno, pubblicò un opuscolo per i sacerdoti dove ricordava le norme fondamentali del concilio di Trento a cui dovevano attenersi, quindi da questo punto di vista cominciò a svolgere un'attività anche molto intensa. Poi nel periodo in cui visse sono importanti anche altri fatti, la distruzione del Duomo Vecchio, il ritrovamento della Chimera, quella precedente, il rifacimento delle vecchie mura da quelle tarratesche e quelle di Cosimo. E quindi sono anche momenti estremamente interessanti sia da un punto di vista della storia civile che anche della storia religiosa. Le chiese, per esempio, si fecero molti lavori all'interno delle chiese, compreso molti altari di famiglia, ricomincia questa voglia di adeguarsi a nuovi tempi e quindi si fanno altari, c'erano anche quelli vecchi, ma molti vengono tolti, se ne fanno di nuovi secondo i nuovi gusti del tempo. Quindi è un periodo intenso, anche se il Vescovo, ripeto, non risiede sempre ad Arezzo, però seguiva molto la diocesi con i suoi vicari, che facevano continue visite anche nella diocesi, controllava e fondarono diversi monasteri, specialmente femminili, arrivarono nel suo periodo i Capuccini ad Arezzo, si cominciarono a istituire le 40 ore, la cerimonia delle 40 ore che fino a qualche anno fa tutti conoscevamo, e cominciò con lui in questo periodo post-tridentino e poi post-tridentino. Quindi è un periodo molto intenso che possiamo chiamare quello dell'età degli anni di Cosimo e del Concilio di Trento, i primi anni successivi al Concilio di Trento, molto intensi. Quindi uno sviluppo sia dal punto di vista religioso che anche dal punto di vista della città di Arezzo. La città, perché si fu distrutto il Duomo Vecchio, ma nel frattempo furono riadattate nuove chiese, si lette inizio alle logge Vasari, e quindi per esempio la Badia del Vasari, la Badia fu tutta risistemata dal Vasari, la chiesa della Badia, Vasari ad Arezzo era molto attivo e ripeto, era in contatto col Vescovo Minerbetti. E quindi ecco, la città cambia un po' aspetto, certo, gli aretini e la distruzione del Duomo Vecchio la vissero male, e ancora oggi siamo a piangerci sopra perché quello non si capisce perché Cosimo abbia deliberato un atto così sciagurato per la storia della chiesa aretina. Però è andato, ci sono quelle due colonne lì del Duomo che lo ricordano, quelle due rocche di colonna esterni. E quindi è un periodo, ripeto, molto importante perché con Cosimo di Melici si instaura il Principato, Medicio. Adesso comincia a rivivere un periodo di pace, di tranquillità dopo le guerre, le sommosse, le ribellioni, e quindi c'è anche una certa ripresa economica che permette queste spese anche, di fare altari, nuovi altari, nuove chiese. E lui si inserisce in piena, a pieno titolo in questo. Lui era amicissimo di Cosimo. Lui, il Minerbetti, quando muore nel 74, poco prima di lui era morto Cosimo e il Vasari. Quindi si chiude proprio un periodo. E fu lui che assiste Cosimo da morto, da morente a Firenze. Fu lui che andò a Firenze perché i Minerbetti erano una famiglia molto vicina ai Melici e lui in modo particolare. Perché essendo un uomo di cultura, ripeto, fino al 1563 fu utilizzato un continuo viaggio all'estero come ambasciatore di Cosimo. Tre o quattro anni risiedete addirittura direttamente in Spagna e quindi amministrava la diocesi tramite i suoi vicari. Però la seguiva, devo dire che la seguiva.